benvenuti bentornati bimbi in sezione ragazzi siamo qui con la nostra magica borsa delle letture che ora apriremo ma prima di tutto mettetevi comodi come questo topolino sulla poltrona pronti a leggere ad ascoltare la fantastica storia di oggi andiamo subito a scoprire apriamo la nostra borsa pian pianino e tiriamo fuori il libricino ma io la conosco lei lusi loca l'avete mai ascoltata la storia di lusi loca lei è un'oca coraggiosissima super gentile e andiamo subito a vedere che cosa combina lucy loca di danny baker illustrazione di peppa cornick lucy loca viveva tutta sola in una casetta al limitar del bosco per quanto ricordasse aveva sempre vissuto da sola e non aveva mai incontrato altri animali un giorno se non sbaglio era di martedì lusi era in giardino ad annaffiare le carote quando dal folto degli alberi sbucò un lupo che si avvicinò a lusi in punta di zampe e disse domando scusa replicò a lusi che cosa hai detto ripete il lupo disse lusi perplessa che cosa significa beh significa rispose il lupo tu scappi e io ti seguo ma prima io faccio che sciocchezza ribatte lusi con un risolino non ci penso nemmeno e poi mi sembri così simpatico come un salsicciotto peloso posso offrirti una tazza di tè e una fetta di torta no 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 rontolò il lupo facendo dietro front e riavviandosi verso il bosco non posso prendere il tè insieme a un'oca nessun lupo che si rispetti lo farebbe mai e sparì fra gli alberi lusi pensò al lupo per qualche istante ma ben presto si dedicò a raccogliere le fragole proprio allora dal folto degli alberi sbucò un orso enorme come prego ripete l'orso agitando gli artigli capisco disse lusi sono desolata ma spaventarmi non è mio forte d'accordo adesso io faccio di nuovo poi tu urli e scappi ok propose l'orso no grazie mi sembri simpatico anche tu come un morbido cappotto di pelo ti andrebbero un tè e una fetta di torta no no e no protestò il grande orso facendo dietro front e riavviandosi verso il bosco non posso prendere il tè insieme a un'oca nessun orso che si rispetti lo farebbe mai e così sparì fra gli alberi lusi pensò all'orso per qualche istante penso anche al lupo ma ben presto si dedicò a raccogliere i fiori proprio allora dal folto degli alberi sbucò un leone sembrava di pessimo umore e muovendo la testa disse oh no sospirò lusi loca un altro il leone non ricordava l'ultima volta che qualcuno non era fuggito urlando dopo uno dei suoi micidiali ruggiti va bene so già tutto tu fai wow e io scappo e tu mi insegui il problema è che io non ho paura ma tutti quanti scappano dai leoni osservò il leone che ne dici se io ruggesco di nuovo e ricominciamo da capo mi dispiace leone sei il primo leone che vedo e mi sembri così simpatico come un bel tappeto che ne dici di un tè e una fetta di torta oh no 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 tuono il leone facendo dietro front e riavviandosi verso il bosco non posso prendere il tè insieme a un'oca nessun leone che si rispetti lo farebbe mai e sparì fra gli alberi lusi pensò al leone per qualche istante pensò anche al lupo e all'orso ma perché avevano tutti tanta voglia di spaventare il prossimo proprio allora dal folto degli alberi sbucò un'oca povera me disse lusi ora non ti metterai a gridare anche tu vero non credo proprio rispose l'altro animale inquieto vedi io sono un'oca come te mi chiamo luca loca a chi mai potremmo far paura noi oche oh che soglievo posso offrirti una tazza di tè e una fetta di torta oppure pensi che nessuna oca che si rispetti prenderebbe il tè insieme a un'altra oca tè torta oh ma che delizia rispose luca sorridendo luca seguì lusi lungo il grazioso sentiero fiancheggiato dai lupini poi sopra il gorgogliante ruscello che scorreva su un letto di pietre dai colori meravigliosi oltrepassato un arco di fiori di gelsomino giunsero davanti a una casa e proprio allora qualcosa li superò di corsa veloce come un lampo era l'orso poi qualcosa li superò di corsa veloce come un aereo era il lupo poi qualcosa li superò di corsa veloce come un leone era il leone tutti quanti entrarono di corsa in casa di lusi avete cambiato idea chiese lusi felice ma un po confusa si rispose il lupo mi sono ricordato che a me mi piace il tè e come risposero l'orso e il leone noi andiamo matti per le torte fece luca nervoso ma è splendido esclamò lusi restate pure finché volete o puoi incontarci dissero i suoi nuovi amici puoi contarci